Palestrina, città dalle origini leggendarie, uno dei primi centri del Lazio, si trova sul versante meridionale del Monte Ginestro, luogo di villeggiatura di imperatori e patrizi romani, l'antica preneste nel nono secolo prese il nome odierno. Sulla sommità del Tempio della Fortuna Primigenia, nel Palazzo Colonna Barberini, è ubicato il Museo archeologico nazionale. All'entrata del museo, il celebre gruppo scultorio della Triade Capitolina, composto da Giunone, Minerva e Giove, dà il benvenuto ai visitatori. Le sedici storiche sale, grandissime, disposte su tre piani, espongono in modo perfetto i preziosi reperti rinvenuti durante gli scavi del Tempio e della vicina necropoli. Soffitti affrescati del Cinquecento e del Seicento, che il tempo è in parte danneggiato, sculture di ogni tipo, maschere teatrali e ancora rilievi in marmo, ritratti, iscrizioni, corredi funebri e terre cotte votive si alternano in una successione molto ben ordinata e suggestiva. Entrando in questo museo, si ha l'impressione di tornare indietro nel tempo. Dimentichi che fuori ci attende la vita di tutti i giorni. Ma è bello pensare che esiste ancora nel mondo un angolo che fa sognare.